Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Un breve video riguardo il bonus su reddito di cittadinanza fino a 4860 euro. Vediamo che novità ci sono in merito. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Mi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. In un nostro video precedente avevamo già parlato di questo bonus aggiuntivo direttamente sul reddito di cittadinanza che può arrivare fino alla cifra di 4800 euro. Parliamo del beneficio addizionale che permette di ricevere un anticipo di ben sei mesi fino a 4860 euro. Dal prossimo 23 settembre coloro che ricevono il reddito di cittadinanza che avviano un'attività di lavoro autonomo possono richiedere il bonus aggiuntivo per l'auto imprenditorialità. Come dicevamo il bonus prevede sei mensilità dell'RDC non come anticipo ma attenzione come integrazione al sussidio economico. Tale extra può arrivare alla soglia di ben 4680 euro a chi percepisce la soglia massima del reddito di cittadinanza. Dunque da dopo domani 23 settembre si può partire con le domande e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.